Perché li dobbiamo mettere in condizione? Stanno in condizione pessimo mai visto un corpo di quel genere? Mai! Faccio un programma serio per recupero di quelle somme che non faccia quello che hanno fatto i nostri processori. Perché solo così questa amministrazione può viaggiare e dare uno slange. La viabilità viaggiava a 160 gradi. Oggi ahimè ognuno purtroppo non è in condizione per poter operare. Però le problematiche sono i nostri cari colleghi.